Buone notizie per il pagamento del canone di locazione. Per il 2021 il comune di Fanno non solo riuscirà a coprire l'intero fabbisogno, ma garantirà anche importi maggiori. Infatti, come già annunciato dal sindaco Seri nella conferenza stampa di fine anno, sono stati aggiunti 165 mila euro di fondi propri che si vanno a sommare a quelli ripartiti dalla regione, per un totale di 636 mila euro a favore delle famiglie meno abbienti. L'intervento ha permesso di triplicare le cifre singole da erogare, facendo risultare Fanno come il comune con l'ammontare più elevato nelle Marche dopo Ancona. Le domande pervenute sono 398, ma i beneficiari scendono a 350 perché qualcuno non rientrava nei criteri stabiliti. In questo bando, nel quale erano esclusi chi vive nelle case popolari e chi paga già poco di affitto, erano presenti due fasce. La prima perché aveva un ISEE inferiore a 5.983 euro, mentre la seconda fino a 11.967. 213 persone sono rientrate nella prima fascia, denominata A, mentre 137 nella fascia B. Questa mattina l'assessore al welfare Dimitri Tinti ha illustrato i contributi, ricordando che il percorso di compartecipazione è stato per la prima volta condiviso con i sindacati, mentre il primo cittadino ha sottolineato l'atteggiamento virtuoso che deriva da una scelta politica forte, fatta nonostante il bilancio che è in sofferenza. Abbiamo tolto risorse da altri settori, ha spiegato seri, per aiutare chi è in difficoltà, a maggior ragione con la crisi internazionale in atto. È un'altra misura importante che si assomma agli interventi che abbiamo fatto nel 2021 per i buoni spesa, quindi per il sostegno alla spesa per i generi alimentari, beni di prima necessità, per le bollette, per il pagamento delle utenze domestiche. E questo è sempre il bando 2021 per gli affitti, quello ordinario, che quest'anno ha come cosa straordinaria, che grazie all'intervento aggiuntivo ha fatto scattare un meccanismo premiante, riconosciuto appunto dai criteri, quindi nel riparto che la Regione fa dei fondi nazionali, e ci ha consentito di avere risorse aggiuntive, quindi ai 165 mila euro del Comune, 471 mila euro di fondi della Regione, e quindi fondo nazionale per gli affitti, che corrisponde a 200, circa 290 mila euro rispetto all'anno 2020. In una fascia, quella con l'ISEE più basso, si passa da 800 a 2.400 euro di contributo, sull'anno chiaramente, e nell'altra si passa da 400 a 1.200, quindi tre volte rispetto al 2020. Credo che sia, vista anche la situazione, un importante segno di attenzione, e davvero il Comune di Fano dimostra che davvero nessuno deve essere lasciato solo, soprattutto in un periodo come questo.